Io sto facendo un giro per capire un po' per questo ferragosto se i cittadini hanno voglia di spendere, se i turisti che arrivano con le navi passano dai negozi, insomma c'è un po' di economia? Sì, vabbè, sicuramente, qualcosa in più si muove, anche con le navi stesse, bene o male, magari non lavoriamo noi ma lavorano i colleghi dei bar, dei lidi, molti so che hanno frequentato i lidi quelli cittadini, quindi comunque è sempre qualcosa in più che altrimenti non ci sarebbe. Quindi c'è questa voglia di vivere il ferragosto, questi giorni anche se sono molto caldi, con qualcosa di diverso? Sì, sicuramente, sicuramente, comunque anche la notte di San Lorenzo ho visto che c'è stato un bel vivere sulle spiagge da parte dei nostri giovani, quindi voglio dire se la gente è stimolata risponde. Se è stimolata significa che devono trovare anche gli sconti? Anche, come no, devono trovare anche la convenienza. E questa convenienza c'è dappertutto? In questo momento ci sono i saldi che finiranno alla fine di agosto, quindi diciamo che credo un po' tutti i negozi sono attrezzati con i saldi. Sono più le donne o gli uomini che si avvicinano per fare la spesa, ecco, per comprare prodotti particolari? Tendenzialmente per il nostro settore merceologico sono le donne, ma anche gli uomini non scarseggiano, insomma, per fortuna. Quindi, insomma, basta saper fare per poter ottenere delle risposte e dei risultati? Come tutte le cose, basta saper fare. Grazie.